Allora, caro Giulio, adesso torniamo con un tuo grande amico. Prima ha interpretato e ha cantato Cervo e Primavera, adesso è pronto a farci vivere altre grandi emozioni. Riccardo Cocciante! Bravo! Bravo! Riccardo! Cantiamo insieme, in libertà, lasciando a dare la voce dove va. Così per scarso tra di noi, posso provarci anch'io se vuoi. Inizia pure, dai! Sai, la melodia che canterei sarebbe quasi un po' così, potrebbe essere così. Aprendo l'anima così, lasciando uscire quello che ognuno ha dentro, ognuno ha in fondo a se stesso. Che per miracolo adesso, sembra persino più sincero, nel cantare, nel cantare insieme. Eyes, la kid, una luna dell'anima così, potrebbe essere così. Sottra di noi, improvvisando un pa', ti seguo eppure vai. La sera arriva, il giorno piano piano se ne va, ma se canti restata. Questione di figli, apprendo l'anima così, lasciando uscire quello che ognuno ha dentro. Questione di figli, lasciando emergere in noi, spontaneamente quel che c'è, nascosto in fondo. Questione di figli, apprendo l'anima così, lasciando uscire quello che c'è. Oh, 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 oh. Perché tutto è questione di film. Basta un niente. Ci proviamo? Questione di... Questione di... Più forte. Questione di... Oh, 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 no, no, sì. Questione, questione, questione di... Di, di, di... Questione... Vieni Grazie, un'interpretazione pazzesca Devo dire la verità Giulio, mettiti a fianco di Lola Devo dire la verità che avere questioni feeling con Lola Pons è molto semplice Grazie per essere stata con noi Grazie, venite qua al piano Vieni al piano Grazie a Lola Pons Grazie a Lola